Parliamo oggi di controllo di gestione. Se andate sul link, andate in giro, vedete tantissima gente che dice tu devi avere il controllo dei numeri eccetera. Intanto dovete sapere che il controllo di gestione nel corso della storia è passato da Fra Luca Pacioli, passando per il triangolo di Uppon, passando per il Berkiven, passando per il budget, per i scostamenti, passando per il rating, passando per lo z-scord di Atma, arrivando alla bala scoccata. Un certo Robert Kaplan, un genio, ha scoperto che la performance dell'azienda non dipende dal bilancio. Ma guarda, il bilancio si riferisce a una situazione passata, cioè a dati vecchi, è come se tu guidi con lo specchietto retrovisore, pensi che dietro davanti a te ci sia il rettilineo, perché dietro c'è il rettilineo. Quindi tutti quelli che ti dicono facciamo il controllo di gestione, mettiamo la contabilità analitica, facciamo il budget, il budget, il business plan. Come fai a fare un business plan se non fai un'analisi di scenario? Se non fai un'analisi su what? Se non fai, giustamente come dice l'Ordine di Milano nel documento sulle linee guida del business plan, dice che tu devi partire un foglio bianco. Molti invece dicono prendiamo le assumptions, le incidenze passate, e le proiettiamo in avanti, senza pensare che il mondo cambia. Quindi Robert Kaplack ha detto, attenzione, sarà che i risultati di bilancio dipendono dal clima aziendale, dalla soddisfazione della clientela, dalla formazione, dall'innovazione, quindi da quanto sono bravo a lavorare? Sarà che in bilancio ci vanno i risultati della mia attività? È un po' come la pagella di un figlio, ti lamenti che tu hai preso quattro, ma hai controllato che studiava due ore al giorno, sei andato a parlare con i professori, hai fatto fare ripetizione, tuo figlio ha fatto una vita sana, se tu avessi messo dei KPI per controllare quante ore hai studiato oggi, due, ok. Vai a parlare con i professori, va male in matematica, ripetizioni di matematica, alla fine il voto è quello che fai tu, in azienda è uguale. Io controllo il clima aziendale, la formazione, l'innovazione, controllo che l'azienda faccia sviluppo, controllo cioè ciò che mi determinerà l'utile o la perdita, metto un KPI, controllo per esempio appunto quanti campanelli abbiamo suonato oggi, io per esempio controllo quante mail nuove ho trovato, perché se io trovo nuove mail riesco ad avere. Quindi attenzione a tutti quelli che adesso vi stanno parlando di controllo di gestione, perché va di moda, perché il controllo di gestione su numeri di tre mesi fa non conta niente, ok. Non conta, significa prendersi in giro, a me conta quello che ho fatto oggi, perché già domani, un altro giorno, devo controllare quello che faccio domani, ok. E devo controllare le azioni che mi daranno come risultato esattamente quello che io voglio, ok. Quindi mi raccomando, non ci sono varie tipologie di numeri, i numeri fiscali sono per pagare le tasse, il bilancio serve per vedere ciò che è successo, ma non serve a fare gestione, ok. Non serve a fare gestione, poi ci sono i KPI, poi c'è la balance scorecard, poi c'è il cuscotto di controllo, che ti permette di guadagnare di più. Quindi se, come diceva Einstein, è inutile che continui a lamentarti perché non hai risultati diversi, perché fai cose sempre uguali, chi fa cose sempre uguali ottiene sempre gli stessi risultati, ok. Quindi mi raccomando. Poi vediamo un po', secondo te, chi deve fare il controller? C'è solo una figura oggi che lo può fare, che è un dottore commercialista, aspetto contabile, comunque uno che ha fatto economia aziendale, che, attenzione, fa anche fiscale. Noi del netto consulente aziendale d'Italia siamo dei consulenti aziendali, che facciamo anche fiscale. Quindi il tuo commercialista, che già paghi, può fare... Ovviamente ci sono commercialisti e commercialisti, i nostri commercialisti, i nostri partner, che fanno anche il fiscalista, sono degli straordinari consulenti aziendali, perché hanno studiato da piccoli, da piccoli. Hanno migliaia, 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 migliaia di ore sul controllo di gestione. E quindi non può arrivare l'ultimo arrivato perché è andato in azienda, ho fatto un master, dice adesso io faccio il controllo di gestione. Fatemi questa domanda. Ma il clima aziendale, quanto è importante per la performance di un'azienda? Se sei un imprenditore o un commercialista, dici subito e immediatamente che tutto è fondamentale. Bene, dove stai in bilancio? Se è una variabile fondamentale, va controllata, va annaffiata, va coltivata, va misurata sul bilancio, mi veniva una parolaccia che non dico, che cavolo misuri, che cavolo controlli, ciò che è successo ho perso, punto. Devo andare avanti, ok? Controllo di gestione è una parolaccia. È una parolaccia.